Doviamo fermarli prima che distruggano i miei fantastici mondi e anche il vostro Svelti, dobbiamo raggiungere il cervello marziano ma la sala di comando è protetta da un campo di forza Bisognerà andare nella sala del generatore e spegnere l'alimentazione prima che possa entrare Dire noi, non ti perdo di vista Leo, vai con Sarge, Brigitte e io andremo alla sala di comando